Nulli i bilanci 2015-2017. Così il Tribunale dell'Aquila che con due sentenze ha accolto i ricorsi presentati dalla CIMAV, società di proprietà dell'ex amministratore delegato Danilo Iennascoli e azionista di minoranza del Delfino. I legali del club Bianchezzuro presenteranno appello. La nota della CIMAV. Il Tribunale dell'Aquila, sezione specializzata in materia di impresa con due sentenze diverse, ha dichiarato nulli i bilanci al 30 giugno 2015 e al 30 giugno 2017, annullando le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci nella parte relativa all'approvazione dei bilanci. Il bilancio al 30 giugno 2016 era già stato dichiarato nullo dalla Tribunale dell'Aquila ed è stato proposto appello da parte del Delfino Pescara 1936, che andrà a decisione definitiva nel mese di marzo 2022. Quindi il Tribunale conclude la nota con tre sentenze diverse, ha dato ragione all'ex amministratore delegato Danilo Iennascoli e ha dichiarato nulli i bilanci del 2015, 2016 e 2017. Tutto questo a due giorni dal match interno con la Pistoiese. Auteri ritrova Drudi dopo la squalifica, gli farà spazio in grosso, Memusciai pronto a rientro, ma a metà campo il tecnico siciliano sembra orientato a confermare Diambo al fianco di Pompetti. Del resto a Grosseto la coppia ha funzionato. Sulle fasce Zappella e Rasi, davanti Clemenza e Dursi a supporto di Ferrari. Di fatto una sola variante, Drudi, rispetto all'undici sceso in campo allo Zecchini. Quasi una rarità. Pistoiese terz'ultima in classifica, a reduce da due K.O. consecutivi con ben nove golli incassati, sei a Modena, tre nell'ultimo turno col Gubbio. Nel 3-5-2 di partenza tornerà dopo la squalifica Vano, trascorsi nel Chieti in D, al centro dell'attacco, al suo fianco Pinza Uti ex Teramo. A centrocampo forse il 41enne Valiani, col play Castellano e Santoro. La prima sfida all'Adriatico, il 17 giugno 1979. Nelle immagini vintage, il Tris Biancazzurro, marcatori Cinquetti, nobili ispirato dal compianto Vincenzo Zucchini e Mimmo Di Michele. Era il Pescara di Antonio Valentin Angelillo, che il successivo primo luglio avrebbe centrato la promozione in A, seconda nella storia del Delfino, nel memorabile spareggio di Bologna contro il Monza.